le monete da 1 e 2 centesimi dell'euro sono in acciaio con placature in rame la coniatura da parte dell'italia per queste due monete è terminata il primo gennaio 2018 moneta da un centesimo ha un diametro di 16,25 mm è spessa 1,67 e pesa 2,30 grammi la moneta da due centesimi diametro di 18,75 spessa 1,67 mm e pesa 3,06 grammi queste monete presentano una faccia comune e una specifica per ogni nazione cominciamo con l'italia dal 2002 al 2017 dai 60 centesimi ai 3 euro in fior di conio tirature dai 9 milioni del 2003 ai 250 milioni del 2013 2018 2019 2020 con 25.000 coniature da serie zecca 10 euro in fior di conio i due centesimi dal 2002 al 2017 50 centesimi 2 euro in fior di conio tiratura dai 21 milioni del 2003 al 11 miliardi e oltre del 2002 il 2018 2019 2020 25.000 circa coniature da serie zecca 10 euro in fior di conio un famoso errore di conio per la moneta da un centesimo invece di avere castel del monte è raffigurata la mole antonelliana anche il diametro che è come quello dei due centesimi per questa moneta 7 mila pezzi coniati in circolazione si pensa a 100 pezzi il valore è sui 3 mila euro ad un'asta è arrivata anche oltre i 6 mila euro per lo stato di andorra i centesimi dal 2014 al 2016 e il 2020 con 40 mila pezzi coniati 10 15 euro in fior di conio 2017 2018 2019 4 euro in fior di conio i due centesimi dal 2014 al 2016 e il 2020 intorno ai 10 15 euro in fior di conio 2017 18 e 19 4 euro in fior di conio per l'austria dal 2002 al 2019 ad esclusione del 2016 16 euro in fior di conio 2016 un euro in fior di conio 2020 non coniato i due centesimi dal 2002 al 2019 escluso sempre il 2016 13 euro in fior di conio un euro il 2016 stesso discorso per il 2020 non coniato per il belgio il centesimo del 2000 30 euro 2002 9 euro 2005 17 euro 2008 25 euro tutti gli altri anni 1 2 euro in fior di conio stato di cipro la moneta da un centesimo dal 2008 al 2020 dai due ai centesimi del 99 65 euro in fior di conio 2001 26 euro 2002 8 euro 2006 17 euro 2008 20 euro 2011 35 euro in fior di conio gli altri anni 1 2 euro in fdc stato di cipro stato di cipro la moneta da un centesimo dal 2008 al 2020 dai 2 ai 5 euro i due centesimi dal 2008 al 2020 circa 4 euro in fior di conio per l'estonia la moneta da un centesimo del 2016 5 euro in fior di conio gli altri anni dal 2011 al 2019 intorno all'1 2 euro in fdc i due centesimi del 2016 5 euro in fior di conio 1 2 euro per gli altri anni per la finlandia il centesimo 2001 e 2002 10 euro in fior di conio dal 2014 al 2018 4 5 euro in fdc gli altri anni intorno ai 2 euro i due centesimi 2001 e 2002 10 euro dal 2014 al 2018 4 euro in fior di conio gli altri anni intorno ai 2 euro per la francia il centesimo del 2001 5 euro in fior di conio 2002 18 euro dal 2015 al 2019 intorno ai 4 euro gli altri anni 2 euro in fdc i due centesimi del 2001 4 euro 2002 18 euro dal 2015 al 2019 4 euro in fior di conio gli altri anni intorno ai 2 euro in fdc la germania il centesimo del 2003 qualsiasi zecca 7 euro in fior di conio del 2006 con zecca a berlino 18 euro in fior di conio le altre zecche intorno agli 8 euro per tutti gli altri anni intorno ai 2 euro in fior di conio i due centesimi non ha nessuno stato particolarmente particolarmente rilevante tutti intorno ai 2 euro in fior di conio la grecia il centesimo del 2002 zecca f 7 euro in fior di conio gli altri anni intorno all'euro in fdc i due centesimi 2002 zecca f 3 euro e 50 gli altri anni un euro nessun anno particolarmente interessante per il centesimo dell'irlanda i due centesimi 2010 11 e 12 intorno ai 4 5 euro in fior di conio negli altri anni intorno ai due la lettonia 1 e 2 centesimi del 2016 intorno ai 30 euro in fior di conio 2018 e 2019 intorno ai 10 euro intorno ai 10 euro per la lituania per entrambe le monete 2018 2019 e 2020 intorno ai 10 euro in fior di conio per il lussemburgo solo il 2003 con un valore più alto 4 euro in fior di conio 2015 e 2016 tra i 5 e i 7 euro 2018 2019 e 2020 5 euro in fior di conio per il principato di monaco il centesimo del 2001 60 euro in fior di conio e quello del 2002 100 euro in fior di conio i due centesimi del 2001 45 euro in fdc tutti gli altri anni sono solo emissioni in fs e bu per l'olanda il centesimo del 2002 11 euro 2006 5 euro tutti gli altri anni intorno ai 2 3 euro in fior di conio i due centesimi del 2001 e 2006 5 euro gli altri anni tra i 2 e i 3 euro in fdc portogallo il centesimo del 2003 20 euro in fdc 2013 e 2018 8 euro gli altri anni un euro i due centesimi del 2003 20 euro 2013 2018 e 2019 8 euro in fior di conio gli altri anni da un euro a 5 da marino il centesimo del 2002 40 euro 2003 25 euro gli altri anni fino al 2016 dai 2 ai 5 euro in fior di conio dal 2017 al 2020 10 euro in fior di conio per la slovacchia il centesimo dal 2009 al 2015 2 euro in fdc dal 2017 al 2020 4 euro per i due centesimi 2012 e 2013 4 euro in fior di conio gli altri anni tra l'uno tra l'euro e 50 e 2 euro slovenia il centesimo del 2008 4 euro 2010 6 euro dal 2011 al 2014 e 2017 10 euro in fior di conio gli altri anni un euro in fdc per i due centesimi 2008 e 2010 4 euro dal 2012 al 2017 8 euro un euro per tutti gli altri anni la spagna il centesimo dal 2009 al 2014 tutti intorno tra l'euro e 2 euro in fdc i due centesimi del 2002 7 euro gli altri anni tra 1 e 2 euro concludiamo con lo stato del vaticano il centesimo del 2002 85 euro 2003 2004 e 2005 30 35 euro dal 2006 al 2009 tra i 20 e i 30 euro dal 2010 al 2020 12 euro in fdc i due centesimi del 2002 80 euro dal 2003 al 2005 tra i 25 e i 35 euro dal 2006 al 2009 tra i 20 e i 30 euro dal 2010 al 2020 12 euro in fdc ringrazio per la visione un like se il video è stato interessante iscrivetevi al canale per il prossimo video le facce dell'euro